E' importante l'eleganza ma soprattutto è anche importante la firma per un abito da sposa. Siamo all'interno di Sartoria Ragusa 1961, anno di grazia e con quell'anno partiva una favola per tutte le donne, partiva proprio la favola dell'abito da sposa. Siamo all'interno proprio dello stand della Sartoria Ragusa, diciamo 1961, quante cose sono cambiate in questi anni? Sono cambiate tante tante cose in questi anni, ovviamente è una tradizione che si rinnova. Da quest'anno tante novità per le nostre spose, abbiamo ampliato l'atelier dedicato alla sposa con tante nuove linee. Siamo esclusivisti per Messina della linea Nicole, della linea Aere Barcellona by Rosa Clara e tante tante altre novità che vi attendono nel nostro atelier. Allora io faccio un po' da una parte e un po' dall'altra, diciamo sono cambiate tante, le esigenze della sposa sicuramente sono cambiate, voi siete sempre al passo con i tempi, ma quanto è esigente questa sposa o quanto è esigente la mamma della sposa? Ma sono tutti esigenti, noi non trascuriamo neanche lo sposo che è da sempre il nostro fiorello occhiello, noi appunto curiamo il look degli sposi da tantissimi anni. La cosa bella che mi fa veramente tanto piacere è che torno in atelier i papà, ai quali ha fatto l'abito il mio di papà, il grande maestro Lillo Ragusa, fondatore della nostra azienda, e tornano accompagnando i loro figli ai quali vogliono far fare le labio da sposo da noi, quindi questa è una cosa bellissima, per noi questa è una grande tradizione che si rinnova. Quindi insomma abbiamo detto lo sposo, la sposa, la cerimonia, quindi insomma un po' tutti quelli che partecipano al matrimonio possono venire da voi e vestirsi tranquillamente. Vestiamo tutta la famiglia, dalla sposa allo sposo, la cerimonia, mamma, papà, ovviamente tante le collezioni pronte in atelier, così come lo storico su misura. Ok, allora ricordiamo dove vive, insomma lo sappiamo tutti, però vogliamo ricordarlo per quei pochi forse che non lo sanno dove si trova la Sartoria Ragusa. Sartoria Ragusa si trova in via Nino Bixo 74, al primo piano c'è lo showroom, nel portone accanto via Nino Bixo 76 c'è il nostro atelier dedicato al mondo sposi. Così come invece in via De Mille trovate gli altri punti vendita, Ragusa 61 e la camiceria Flavia.